Un attimo che si sta attivando. Io la vedo già attivata. E da me ancora gira. Sai perché da me spunta subito? No, e qua ancora è col cerchiettino che gira. Quando spunta è rosso, ma perché? Lei l'avete attivata? Vabbè, però è rosso attivato. Ora si è attivata. Allora, per vale 10 del 18 gennaio 2021. Consigliere Argiroffi, assente. Consigliere Caronia, assente. Consigliere Ferrara, assente. Consigliere Gentile, assente. Consigliere 909. Perfetto. Non essendo stato raggiunto il numero regale, la seduta è rinviata tra un'ora e precisamente alle ore 10 e 09. Possiamo staccare la registrazione. Va bene. A dove?